Dal 19 al 23 maggio appuntamento con il primo congresso mondiale dei diritti linguistici. L'importanza è il programma dell'evento? Allora l'importanza è molteplice e molteplici saranno gli argomenti trattati. Dal problema dell'internazionalizzazione che in realtà significa anglicizzazione dei corsi di studio dalla materna ormai fino all'università, quindi alla perdita di sovranità linguistica del nostro paese e di altri paesi, alla promozione, all'appello per la lingua della razza umana, la lingua esperanto, a proposte di legge per riconoscere minoranze non riconosciute come ad esempio la minoranza rom e sinta passando per una tradizione consolidata di ricerche di giuristi e di linguisti per il riconoscimento delle minoranze. Ricordo che l'Italia è in Europa e nel Mediterraneo il paese più ricco dal punto di vista etnico e linguistico ancora oggi. Quindi già sarebbe abbastanza. Oltre al congresso avremo un salone della diversità linguistica con una quindicina di stand dove case editrici, associazioni, enti locali e non solo, avremo anche un tavolo del Ministero della Cultura francese, presenteranno le pubblicazioni e le azioni che si fanno intorno alla diversità linguistica, alla sua promozione. Non solo l'Università di Teramo, verrà interessata dal congresso, ma anche Giulia Nova e Villa Badessa di Rociano. Abbiamo una serata al Teatro Cursal dove presenteremo un disco di Max Fuschetto del suo gruppo, Sunnatur, è un compositore che fa musica assolutamente contemporanea, ma recuperando in parte la tradizione arbres, cioè italo-albanese. Poi faremo un passaggio a Villa Badessa di Rociano il giorno 21, che è l'unica isola di minoranza linguistica presente in Abruzzo, quindi riconosciuta formalmente, fondata nel 1744 da 18 famiglie di albanesi, cui Carlo III di Borbone diede delle terre.